Pulizia e manutenzione saranno orientati a trovare soluzioni rapide e concrete su questi due fronti sopra luoghi già in calendario nella prossima settimana da parte dell'amministrazione comunale di Salerno. Come garantito dall'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio, dalla prossima settimana squadre di esperti e manutentori si recheranno nelle aree dove si sono verificati dei vistosi cedimenti che hanno reso necessario transennare ed evitare l'accesso a pubblico per esigenze di sicurezza in un largo tratto del lungomare a Torrione. Veri e propri squarci nell'asfalto e cedimenti del muro legati, come ha ribadito l'assessore De Maio, al fenomeno dell'erosione costiera che sottraendo tratti di spiaggia rende sempre più forte ed invasiva la potenza del mare e delle onde. Per questo l'obiettivo a lungo termine dell'amministrazione comunale di Salerno sarà quello di reperire le risorse necessarie a completare la messa in sicurezza del litorale. Ma in attesa che si possa arrivare davvero ad avere una risposta positiva dall'Unione Europea e a programmare dunque gli interventi, il Comune sembra pronto a soluzioni tampone che consentano, prima dell'estate, di rendere fruibili quel tratto di lungomare e la sottostante spiaggia. Tra le ipotesi al vaglio del Comune è anche un progetto per riqualificare la zona delle ex giostrine a Pastena. Ci sarebbe un gruppo di privati disposto a riqualificare e a investire sulla zona.